bella a tutti ragazzi oggi siamo qui per fare un nuovissimo video dove facciamo le news di calciomercato mi raccomando ragazzi iscrivetevi che su questo canale porteremo tante news allora raga ragazzi una voce folla di calciomercato che mappe all'inter mamma mia poi un'altra notizia clamoroso mappe al ilal offre 300 milioni al psg 700 al giocatore poi gianluca guetano al bari mamma mia poi quadrato c'è che si è un nuovo giocatore della juventus quindi mi raccomando il video finisce qua bello a tutti c'è raga la ilal offre 300 milioni al psg c'è raga sti alibi qua stanno rompendo c'è